Decoro, contegno, nessuno vuole, una nocera inferiore sporcata di manifesti elettorali selvaggi come è avvenuto negli anni scorsi durante la campagna per le prossime amministrative. Ecco perché sembra aver colto nel segno la proposta dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle rispetto alla corretta pubblicizzazione di immagini e loghi politici durante la campagna elettorale. Ma il sindaco Torquato precisa che si tratta di un'idea già lanciata dal commissario cittadino di Forza Italia Roscia e si rifà anche ad un'altra idea messa in campo dallo stesso Torquato qualche tempo fa. Questa è una proposta che nasce da Forza Italia, dal dottore Roscia che l'ha fatta per primo, adesso seguono anche i 5 Stelle, ma noi l'abbiamo rispettata nel corso degli anni passati, nei limiti del possibile, poi è chiaro che ci sono le affissioni manifesti, la condivido pienamente. Ricorderei che questa amministrazione ha fatto un'ordinanza, il sottoscritto ha fatto un'ordinanza proprio per l'imbrattamento cartaceo, tesa a limitare l'affissione di volantini, di adesivi e di altre schifezze in carta che poi sporcano la città, allora fui un po' preso in giro. Ecco adesso in occasione della campagna elettorale tutti si ricordano di fare i rispettosi dei colonnati cittadini, delle cantonate cittadine, va bene, la condividiamo. E per il primo cittadino due appuntamenti importanti nelle prossime ore. Domani mattina consiglio comunale con un punto delicato da discutere all'ordine del giorno, quello legato alla costituzione dell'azienda consortile cui affidare i servizi alla persona per il nuovo piano di zona che comprende oltre a quello di Nocera Inferiore anche i comuni di Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Vedremo quale sarà la linea adottata, soprattutto rispetto alle idee proposte dal sindaco cuofano di Nocera Superiore. Venerdì sera invece Torquato, al Teatro Diana, aprirà di fatto la sua campagna elettorale presentando ai cittadini il bilancio di cinque anni di attività. Che Nocera è di nuovo una città viva, lo è nonostante le difficoltà di partenza, nonostante una situazione prossima al dissesto finanziario, nonostante una realtà per la quale noi avevamo un'emergenza rifiuti pressoché cronica, una disarticolazione dell'organizzazione comunale notevole, una difficoltà di gestione del sistema dei rifiuti, tutta una serie di attività che vedevano una serie di incompiute ad esempio in città per ragioni legate a problematiche economiche. Il palasporto non veniva aperto, ne veniva completato, la piazza del Corso rimaneva in una situazione di fatiscenza. Ovviamente nel corso degli anni passati erano state svolte una serie di attività di riqualificazione della città di cui bisogna dare atto, purtuttavia si era giunti ad una situazione insostenibile dal punto di vista dell'indebitamento e della disarticolazione della città. Poter dire dopo cinque anni, dopo che ricordo un pomeriggio di giugno alla vigilia dell'insediamento della giunta che avvenne il 18, la funzionaria della ragioneria entrò in questa stanza da quella porta e mi disse abbiamo difficoltà a pagare gli stipendi al personale dalla misura di quale fosse la situazione di questa città. Che credo sia nella memoria di tutti. Poi è chiaro, si possono dire tante cose, potevi dire, potevi fare, avresti potuto fare, ma a stare in cattedra soprattutto dietro una tastiera del computer è facile, poi bisogna lavorare e dimostrare di farlo in modo onesto, come lo abbiamo fatto, in modo corretto, rispettoso delle istituzioni e poter dire che Nocera è fuori dal burrone.